Chiesa Madre di Sant'Eramo in Colle Siamo con il parroco, l'arciprede, Don Michele Io dico sempre arciprede perché si identifica sempre È una cosa obsoleta però c'è anche tanta popolazione un po' avanti con gli anni Che capisce benissimo di che cosa stiamo parlando Tra poco si avvicina la festa patronale Manca veramente pochissimo, un mese, un poco più, qualche giorno in più C'è una bella notizia perché la festa patronale Quella dedicata al santo patrono a Sant'Erasmo Vediamolo qua, benedicente, in questa bellissima statua Sono sette le statue di Sant'Erasmo qui a Sant'Eramo Ma sarà accompagnata da una notizia veramente Che ci ha riempito tutti quanti di gioia Si tratta, la faccio dire Don Michele Si, si tratta della presenza fisica del santo Nel senso che ieri siamo riusciti ad avere questo grande dono Da parte di Monsignor Vari, il vescovo di Gaeta In un frammento osseo di Sant'Erasmo E quindi è più che giusto lì, una città dove porta anche il suo nome Avere anche una presenza che ci unisce, ci collega direttamente al santo vescovo di Antiochia Vogliamo ricordare la cronaca Avevamo qui, era custodita qui se non sbaglio Michele, la reliquia di Sant'Erasmo Fu portata a Sant'Eramo dopo un bel pellegrinaggio Con il vescovo Ricchiuti Finalmente Sant'Eramo, questa bella chiesa madre Si arricchiva della reliquia, la prima reliquia del santo patrono Poi, come abbiamo raccontato sulla stampa, sui giornali, sui media C'è stato un furto, è stata trafugata a nottetempo E quindi non avevamo più la reliquia di Sant'Erasmo Ci furono tante notizie Abbiamo scritto tanto Abbiamo chiesto di sapere chi fosse stato il colpevole Ma mi ricordo che proprio l'anno scorso Il vescovo, l'arcivescovo, tranquillizzò tutti Proprio qui, durante la cerimonia, la festa di Sant'Erasmo La chiesa, la messa, quella più importante Celebrata proprio da Don Giovanni Ricchiuti Nel quale disse Sua Eccellenza Non vi preoccupate Riusciremo ad avere un'altra reliquia Bene, infatti poi lo dico, non lo raccontano con questa sua intervista Ecco, ci racconti come è andato il viaggio Ecco, un po' di particolari Beh sì, diciamo che dopo due anni di appello E dopo due anni di attesa Dove abbiamo dato diversi modi Nell'anonimato Di restituire chiunque si sia impadronito Di questa reliquia Ecco, abbiamo iniziato da circa diversi mesi Le trattative con la diocesi di Gaeta Perché ci rendiamo conto Che non c'è proprio questa libertà Quindi anche di dover concedere reliquie E quindi quando appena il Monsignor Vari ci ha chiamato Per dire che erano riusciti comunque A ritagliare un pezzo da poterci donare Ieri mattina siamo stati in una piccola delegazione Eravamo sei persone Di cui quattro preti con il vescovo E due laici L'economo diocesano E il presidente del comitato Feste Poi c'era anche il cancelliere di Curia C'era anche un sacerdote santo ermano E quindi come rappresentante Diciamo di tutta la comunità Anche santa ermana E siamo andati a Gaeta Dove il vescovo con veramente molto gentile Molta accoglienza Ci ha fatto visitare non solo la cattedrale Ma lì dove riposano i resti ancora di Santerasmo Abbiamo visto anche questa bellissima colonna Altissima presente nella cattedrale Dove si racconta la storia di Santerasmo E per nostra grande meraviglia Abbiamo visto anche un cero votivo Vicino alla tomba di Santerasmo Portato da una comunità tedesca Che hanno la parrocchia Dove venerano Santerasmo Quindi anche dalla Germania Questo ci ha fatto comprendere Che siamo comunque la presenza di un santo Che ha dato non solo la vita per il Vangelo E per il nostro Signore Ma un santo che ha predicato con franchezza Quel Vangelo per cui ha dato anche la stessa vita Don Michele però non è ancora qui No Ecco ci vuole dire dov'è Infatti c'è stata questa consegna ufficiale Ieri sembrava di che stessimo firmando un trattato di pace Perché intorno ad un tavolo c'erano i cancellieri delle due curie I due vescovi C'era anche il sottoscritto Dove c'è stato questo passaggio Di una busta contenente la reliquia E con diversi documenti che vanno allegati E accompagnano la reliquia E con il vescovo abbiamo pensato anche di fare una cosa abbastanza importante Che desse ancora più importanza non solo alla reliquia Ma anche a tutta la comunità di Santeramo Infatti il 10 maggio sarà il vescovo Ricchiuti Che porterà e consegnerà alla comunità santermana La reliquia che abbiamo ottenuto ieri Poi in giugno, il 4 giugno, Monsignor Vari sarà in visita qui a Santeramo E sarà per noi un motivo come comunità Per ringraziare di questo suo dono che ha fatto alla nostra comunità Noi sicuramente seguiremo questo momento Con i microfoni di telemicro, con le nostre telecamere Perché è un momento importante Che prelude poi ai grandi festeggiamenti in onore del Santo Quindi sicuramente ci vediamo qui L'annuncio lo ha dato già Don Michele Credo anche durante la celebrazione della Messa Lo farà tra poco? Lo faremo tra poco Anche se il Consiglio pastorale comunque era già stato avvertito Nei giorni precedenti di questo nostro viaggio Non volevamo annunciare notizie fetolose Anche perché si stava decidendo con Monsignor Richiuti Di questa giornata in cui lui venisse a portare la reliquia Quindi se non avevamo le date certe Non potevamo accendere entusiasmi Che poi potevano essere un po' svaniti E quindi quest'anno proprio per questo motivo Per questo ritorno avremo anche la possibilità di gioire Perché il 28 di maggio ci sarà qui l'Arcivescovo di Bari Proprio in occasione diciamo di questo ritorno E quindi anche di una festa che ritorna ad essere la festa importante Non perché le altre non siano state Ma con la presenza della reliquia Acquista diciamo tutto un altro valore e un altro significato Anche perché voglio sottolineare Noi abbiamo il Chiostro dei Padri Riformati Già Padri Riformati Dove è istoriato tutto il martirio di Sant'Erasmo Uno dei martiri più, un martirio cruento Perché vogliamo ricordare Sì, Sant'Erasmo è stato praticamente sviscerato Nel senso che questa forma di tortura Che si subiva al tempo E infatti per questo è anche legato ai Santi Protettori Per i malanni e malattie legate anche allo stomaco Per questo motivo San Benedetto era un grande devoto di Sant'Erasmo Perché soffriva diciamo di alcuni dolori Infatti i Benedettini sono tra i faudori Per aver portato in giro il culto anche di Sant'Erasmo E quindi questo martirio significa per noi Quel sangue che hanno versato i Santi Martiri Significa per noi come quell'acqua Praticamente che permette alla Terra di ritornare a vivere Permette a noi di continuare a sperare Grazie Don Michele Ci vediamo sicuramente fra qualche giorno Qualche settimana Perché insomma vogliamo essere presenti A questo momento così particolarmente vicino A questa bella comunità Sicuramente Grazie a voi che ci date la possibilità Di raggiungere tanti con queste notizie E di coinvolgerli quindi anche in questi momenti di gioia Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi